giovani e meno giovani ben trovati in questa nuova serie di video oggi vediamo tutti i dettagli sul forum della ristorazione 2024 sono sul sito ufficiale del forum della ristorazione www.forumdellaristorazione.com proprio perché su questo sito sono raccolte tutte le informazioni che potete avere a riguardo le commentiamo insieme per così posso aggiungere qualche parola qualche indiscrezione magari qualche dettaglio che sulla landing page ancora non c'è ma che vedrete presto sarà resa pubblica proprio perché ovviamente ci ci teniamo dunque torna al forum annuale dedicato alla ristorazione sarà martedì 12 e mercoledì 13 al padova congress la struttura che ci ha ospitato nel 2022 è stato un successo perché è piaciuta a tutti i partecipanti quindi l'abbiamo confermata anche per il 2024 come sapete il forum della ristorazione ogni anno ha un tema dedicato e quest'anno il tema dedicato è l'evoluzione pensiamo che il settore della ristorazione sia un bivio dove da un lato c'è la strada dell'evoluzione appunto quella che cerchiamo di percorrere vi consigliamo di percorrere e dall'altro invece c'è la strada della staticità della involuzione in generale di rimanere fermi radicati sulle solite vecchie abitudini quelle che purtroppo non portano da nessuna parte e secondo noi non portano appunto a quello che è il futuro della ristorazione i biglietti per il forum sono in offerta fino al 31 gennaio di quest'anno che durante le quali appunto scadranno le migliori condizioni possibili i biglietti sono in offerta a 119 euro più iva cada uno ma ci sono degli sconti del 30 per cento per i biglietti successivi al primo in poco però poche parole con meno di 200 euro partecipate in due e con quasi 250 euro partecipate in tre e così via insomma i conti poi li vediamo dopo meglio nella nella sezione dei biglietti come avete visto i biglietti sono a prezzo amico proprio perché ci teniamo che partecipiate ci teniamo che il prezzo non sia una scusa per non partecipare a questo evento che si pronuncia già leggendario e sicuramente l'edizione migliore di sempre e quindi appunto abbiamo voluto mettere questi biglietti a prezzo amico l'offerta scade come vi dicevo il 31 gennaio quindi tra 16 giorni perché mentre sto registrando questo video è lunedì 15 alcuni numeri delle passate edizioni che riguardano il forum abbiamo organizzato tre edizioni precedenti ci sono hanno partecipato più di 2000 ristoratori da ogni parte d'italia più di 20 ospiti internazionali e sono state presenti tutte le regioni italiane sì anche il molise so che non ci crede nessuno ma è così qui c'è un video che potete far partire per quanto riguarda il riassunto del forum della ristorazione passato video molto bello che spiega appunto i momenti salienti del forum e fa vedere tutti i volti dei protagonisti che hanno partecipato vi consiglio assolutamente la visione che cos'è il forum della ristorazione il forum della ristorazione è l'appuntamento annuale dedicato alla ristorazione è un evento che noi di ristoratore top organizziamo dal 2019 quando abbiamo ottenuto la prima edizione a rimini eravamo in quattrocento poi abbiamo tenuto la seconda edizione nel 2021 abbiamo saltato quella del 2020 per ovvi e tristi motivi e infine riprendiamo quest'anno dopo la edizione del 2022 che sarà più grande di tutta con più di 1000 ristoratori presenti 2000 presenza in due giorni davvero un forum eccezionale riprendiamo quest'anno nel 2024 sarà l'unica edizione del 2024 dopodiché se ne parlerà forse l'anno prossimo è un evento di divulgazione è un evento di informazione è un evento di socialità non è un evento di formazione è un evento dove ci vogliamo riunire condividere delle analisi nette condividere dei numeri condividere dei trend di mercato fare delle interviste ospiti illustri in generale parlare delle tematiche principali legate al nostro mondo quello della ristorazione vi voglio far vedere qualche ospite che parteciperà a questa edizione sono nomi di spicco sono nomi molto importanti che probabilmente già conoscete ma voglio commentarvi un poco la prima ospite che abbiamo tenuto particolarmente che ci fosse chef isabella potty è una chef con una stella michelin titolare del bros un ristorante nel sud italia ma chef isabella interessante almeno dal nostro punto di vista proprio perché unisce due figure sicuramente quella della chef con dell'imprenditrice perché è di fatto entrambe le figure e anche quella dell'influencer e secondo noi è un messaggio molto interessante da lanciare soprattutto in questa diciamo in questo periodo storico proprio perché la ristorazione non è più quella di 20 o 30 o 40 anni fa è qualcosa in continua evoluzione in continua trasformazione in continuo cambiamento e chef isabella potty incarna alla perfezione queste tre definizioni e di conseguenza vogliamo capire qual è il suo punto di vista nel mercato della ristorazione avremo francesca nonino che credo non abbia bisogno di presentazioni soprattutto per il cognome che è appunto la porta bandiera di della famiglia nonino sesta generazione ed è una figura chiave per l'azienda nonino e ci racconterà un po quella che la sua visione del mondo della ristorazione dei social network ho visto che fa una comunicazione eccellente su questi canali e ovviamente il settore della grappa per capire un po meglio quali sono gli scenari futuri trend che vede in questo mercato avremo con noi marco di giusto che il titolare di cgr e cgr magari non è molto conosciuta compagnia generale ristorazione è una spa ma sono certamente conosciuti format che controlla cgr tra cui old wild west viner house america graffiti pizzicotto temachino e tantissimi tantissimi altri in totale i punti vendita gestiti sono più di 370 per un fatturato totale di più di mezzo miliardo di euro ecco io credo che una persona che in 21 anni abbia sviluppato quasi 400 punti vendita e abbia generato 500 miliardi nel nostro settore abbia qualcosa da dire sono felicissimo che ci sia marco di giusto con noi perché un personaggio davvero davvero interessante avremo poi pietro nicastro che ti da di love and grube spero di averlo detto bene e di altri format nel campo della ristorazione un bravissimo imprenditore che si accorderà distinto oltre che per una grande caparbietà e capacità nel nostro settore anche per essere una persona molto poliedrica ha tanto da dire e l'ho sentito recentemente proprio per chiedergli informazioni riguardo al suo speech sarà davvero davvero interessante in più non vogliamo svelarvi tutto ci siamo tenuti ancora qualche ospite segreto che svederemo nelle prossime puntate quindi state assolutamente connessi per quanto riguarda il programma del forum della ristorazione ci sono un po di cambiamenti rispetto a soprattutto l'edizione nel 2022 e quindi voglio condividerli con voi la prima giornata martedì 12 marzo sarà identica a quella che abbiamo fatto nel 2022 ci riuniremo nella sala mantegna del padova congress questa struttura bellissima nuovissima progettata da tengo kuma inizierò la giornata io parlandovi dei dati dell'osservatorio ristorazione e come sapete tutti gli anni al forum mostriamo i dati in anteprima del nostro osservatorio ristorazione e seguiranno poi sei interviste a sei protagonisti nel campo della ristorazione quattro ve li ho già mostrati due sono ancora lì da venire probabilmente se abbiamo tempo e modo ci piacerebbe tantissimo anche realizzare una tavola rotonda e coinvolge diciamo delle personalità della ristorazione ma questo siamo ancora in fase di progettazione sei ospiti di spicco sei personalità interessanti nel campo della ristorazione proprio perché il forum vuole portare avanti un messaggio che quello che non esiste il successo nel campo della ristorazione ma esistono i successi nel campo della ristorazione la definizione di successo infatti dal nostro punto di vista non è univoca ma ce ne sono tante ci sono tanti punti di vista ci sono tante strade per raggiungere quella che è la realizzazione nel nostro settore e noi vogliamo conoscere tutti questi punti di vista sarebbe stato facile mettere su un ennesimo evento a marchio ristoratore top dove sostanzialmente ce la saremmo cantata e suonata noi invece ci piace uscire dalla nostra area di comfort ci piace andare laddove non siamo mai andati e anche metterci in discussione proprio per questo abbiamo chiamato delle personalità che secondo noi ne sanno di più di noi in determinate aree e quindi abbiamo veramente piacere di intervistarle e sentire che cosa hanno da dire mercoledì 13 marzo invece la seconda giornata di forum ci sarà una grande novità perché la sala mantegna verrà divisa in tre aree e ognuna delle aree avrà degli speech e dei convegni specifici voi che parteciperate che parteciperete al forum della ristorazione potrete scegliere a quale sala partecipare quindi quali speech ascoltare avremo con noi ancora personalità di spicco speaker internazionali ristoratori come voi titolari di web agency titolari di software house nel campo della ristorazione insomma esperti del nostro settore che approfondiranno i loro temi specifici e faranno degli interventi di valore io sono il responsabile della didattica del forum della ristorazione e ci tengo e ci ho tenuto particolarmente a non coinvolgere persone che sarebbero venuti in sala semplicemente con lo scopo di vendere i loro prodotti loro servizi non vogliamo assolutamente questo ma il primo ed unico scopo di una persona che calca il palco del foro della ristorazione e quello di trasmettere informazioni di valore a chi è in sala questo è l'unico comandamento che dovranno seguire gli speaker quindi non ti aspettare dei marchettoni non ti aspettare degli speech di vendita mascherati da speech ma aspettati e aspettatevi proprio la genuina e onesta voglia di condividere delle informazioni che possono cambiare le sorti della vostra attività appunto all'interno del forum domanda scontata ma la quale va risposta dorenzo ma se voglio vedere due speech che sono contemporanei due sale diverse non posso sdoppiarmi come faccio semplicissimo con il biglietto del forum della ristorazione abbiamo regalato a tutti la possibilità di vedere le registrazioni del forum quindi se ti perderai uno speech no problem perché dopo il forum riceverete e riceverai tutte le registrazioni e potrai rivedere da capo tutti gli speech quelli che preferisci qui abbiamo messo un po di foto le lezione dell'anno scorso la sala gremita la sala mantegna saremmo esattamente in questa sala per cui puoi vederti la galleri e vedere un pochino che cosa abbiamo combinato bene andiamo avanti se ci riesco ecco qui queste sono le aree tematiche in programma per la edizione del 2024 parleremo di automazione tecnologia parleremo di marketing parleremo di format e catene parleremo ovviamente l'intelligenza artificiale visto che il tema dell'anno probabilmente anche il tema del secolo parleremo di risorse umane e hr perché la crisi del personale ristorazione purtroppo non è ancora finita parleremo di dati di numeri di fatti e infine di trend del settore queste sono le aree tematiche all'interno delle quale potrai aspettarti gli speech sia del primo che del secondo giorno qua c'è un'intervista un'anteprima dei contenuti visto che siamo andati a intervistare l'affaire alaimo che il seo e il mettere degli o del gruppo alaimo e anche un'intervista a pagnino giusto di del seo che si chiama antonio civita entrambe bellissime interviste che ti consiglio di recuperare visto che sono in chiaro gratuite su youtube cinque buone ragioni per partecipare al forum il mondo è cambiato dobbiamo dircelo il mondo è assolutamente cambiato e non solo è cambiato ma cambia la velocità con la quale cambia e di conseguenza c'è da capire che cosa è cambiato proprio per cercare di adattarsi a questa tematica e al forum vedremo appunto dal nostro punto di vista e il punto di vista dei protagonisti del settore potrai scoprire delle analisi inedite infatti avrà in regalo come bonus il rapporto dell'osservatorio ristorazione che contiene più di 50 analisi inedite sul nostro settore trend di mercato numeri grafici una lettura veramente illuminante trovi ispirazione formazione e motivazione non ci riuniamo soltanto per fare delle chiacchiere ma anche per uscire arricchiti da quella sala e magari se siamo fortunati anche ispirati stringi mani in networking saremo circa in un migliaio non siamo proprio pochi e di conseguenza lì tra le persone che parteciperanno al forum potrai trovare il tuo prossimo socio il tuo prossimo partner in crime potrai trovare la prossima persona con la quale confrontarti motivarti formarti ispirarti infine ottieni un vantaggio competitivo perché sì saremo circa in un migliaio ma le attività di ristorazione in italia sono più di 330 mila vada se che quelle 290 anzi quelle 320 mila attività che non parteciperanno ovviamente saranno non saranno aggiornate come chi invece parteciperà questo dal nostro punto di vista rappresenta un vantaggio competitivo qua puoi vedere gli ospiti delle passate edizioni hans beck riccardo l'accordo teo musso andrea langhi valerio visentin antonio civita giampolo grossi di starbucks giancarlo per bellini luca pizzighella che il general manager di signor vino nicolò quateroni conosciuto da praticamente da tutti vittoria zanetti la regina delle poche raffaele alaimo tre stelle michelin e grande imprenditore filippo sironi che il sio del manarino e tanti tanti altri qui puoi vedere un'anteprima di alcuni dei casi studio che abbiamo mostrato le edizioni precedenti del forum anche per tastare con mano quella che la qualità media degli interventi che vedrai per farti appunto capire e vedere che non siamo lì per vendere l'ennesimo servizio per proporti l'ennesimo di corso di formazione al forum non ti vendiamo niente ma semplicemente per condividere la nostra esperienza se poi vorrai procedere comprando qualche servizio di ristoratore top o i servizi che gli sponsor offrono ovviamente siamo lì anche per quelle non vediamo l'ora qui c'è una piccola bio di chi sono che cosa faccio qua c'è un paragrafetto dedicato a il target del forum della ristorazione quindi le persone che vorremmo e consigliamo fortemente di partecipare quindi chiunque lavora nel campo della ristorazione deve essere al forum cuochi camerieri collaboratori dipendenti porta i tuoi collaboratori abbiamo veramente realizzato il il forum con dei biglietti apprezzo amico per dare la possibilità di venire con la propria squadra e di far conoscere loro un'altra prospettiva nel campo della ristorazione non venire da solo e se vieni da solo ricordati di condividere i video anche con i tuoi colleghi e con i tuoi dipendenti qua delle testimonianze di chi ha partecipato agli eventi di ristoratore top leggile sono molto interessante e poi arriviamo finalmente ai bonus del forum della ristorazione guarda per quanto riguarda il forum abbiamo deciso di tenere una linea molto chiara vogliamo fare sentire stupido chi non acquista il biglietto del forum della ristorazione vogliamo condire con così tanto valore il biglietto del forum da rendere veramente sciocco dire di no a una proposta di questo tipo e quindi abbiamo inserito all'interno del biglietto del forum tre bonus che ti vado adesso a descrivere il primo bonus è il rapporto dell'osservatorio ristorazione 2024 questo rapporto è in esclusiva per chi partecipa al forum non può essere acquistato in altro modo non lo venderemo in altro canale che non sia chi partecipa al forum della ristorazione il rapporto dell'osservatorio ristorazione 2024 è giunto alla quinta edizione e indaga tutti i numeri della ristorazione nell'anno dell'evoluzione saranno 300 pagine di dati analisi analisi inedite soprattutto visti che sono fatte sul database anche platform e di conseguenza sono numeri che abbiamo soltanto noi di ristoratore top che riguarda ovviamente settore più bello del mondo 50 analisi inedite altrettanti grafici centinaia e centinaia di informazioni importantissime per chi vuole avere un quadro completo del settore ristorazione imperdibile veramente ed è in esclusiva per chi partecipa al forum della ristorazione in più diamo il regalo una consulenza fatta con uno dei nostri marketing manager e o con uno dei nostri responsabili che è un'analisi preliminare noi sappiamo e io ci credo fortemente che ogni situazione in italia è a sé anche la tua per questo abbiamo previsto incluso nel prezzo del biglietto appunto questa analisi preliminare una call una chiamata una video chiamata di 60 minuti con uno dei nostri responsabili per analizzare la situazione del tuo locale darti qualche input riguarda quelli che possono essere i percorsi a te consigliati la direzione da prendere in generale se hai dei dubbi puoi chiarirli durante questa analisi preliminare infine le registrazioni video dell'evento questa cosa normalmente agli eventi non si fa anzi è raro che si diano anche le registrazioni dell'evento in questo caso diamo le registrazioni integrali del forum della ristorazione quindi potrai vedere tutti gli speech potrei rivederli potrei condividerli con i tuoi dipendenti con le persone che lavorano con te ovviamente queste registrazioni sono dedicate a te che hai acquistato il biglietto quindi non mandarli in giro anche perché ce ne accorgiamo quindi non sarebbe né carino né giusto però per chi lavora con te per chi è al tuo fianco sicuramente devono vedere le registrazioni quindi tre bonus valore di diverse centinaia di euro completamente regalato completamente inclusa all'interno del prezzo di biglietto perché ci teniamo che ci siate ci teniamo che veniate a padova con noi il 12 e 13 marzo del 2024 il forum della ristorazione a degli sponsor ne ha diversi proprio perché ci sono persone che credono in quello che facciamo in quello che mettiamo in campo il forum della ristorazione è un evento costosissimo vedrai quando ci vedremo dal vivo la qualità di ciò che abbiamo organizzato la qualità dei servizi che offriamo e la qualità di ciò che eroghiamo e proprio perché questa cosa costa abbiamo necessità che ci aiutino delle persone che la pensano come noi e credono in noi e nel forum della ristorazione sicuramente ristoratore top è uno sponsor del forum c'è bobby robo cameriere catering gross digital factor food costing cloud distilling e tantissime tantissime altre questi non sono ancora gli sponsor ufficiali tant'è che abbiamo un main sponsor che per ora è ancora nascosto e te lo racconterò tra pochissimo nei prossimi giorni visto che lo comunicheremo comunque sia anche gli sponsor sono di qualità proprio perché non diciamo di sia tutti anzi abbiamo detto molti più no che sì però chi è con noi sicuramente farà il suo e cederà una mano organizzare un evento che davvero sa già di epicità la location saremo al padova congress come ti dicevo come vi anticipavo questa struttura nuovissima nel cuore di padova facilissimamente raggiungibile da qualsiasi mezzo treno ea due passi dalla stazione macchina ci sono parcheggi dappertutto dall'aeroporto e comodissima insomma una struttura veramente facile da raggiungere dai mezzi pubblici con una breve corsa in taxi o con una camminata dalla stazione lo si raggiunge facilissimamente ecco qua questo è tutto quello che sarà da dire per quanto riguarda il forum della ristorazione sul sito c'è sostanzialmente tutto oltre a questo consiglio di portare il tuo staff perché sarà necessario averli qua con noi trovi delle domande e risposte frequenti per quanto riguarda il forum e trovi tutto quello che può essere utile per capire che il forum della ristorazione è l'evento di formazione informazione e socialità al quale quest'anno non puoi davvero mancare per quanto riguarda i biglietti sono fuori a 119 euro più iva fino al 31 gennaio 2024 dopodiché alzeremo i prezzi abbiamo previsto degli sconti per gruppi dal secondo biglietto in poi ottieni istantaneamente uno sconto del 30 per cento sul prezzo del biglietto e lo sconto viene applicato direttamente nel carrello acquistando il tuo biglietto hai diritto all'ingresso valido per i due giorni di forum all'analisi preliminare le registrazioni integrali dell'evento e tutti i materiali didattici e informativi del forum in più c'è anche una coppia del rapporto osservatorio ristorazione come ti dicevo per ogni biglietto acquistato bene abbiamo concluso io quello che ti invito a fare è di venirci a trovare a padova venire a toccare con mano la qualità di quello che offriamo e proponiamo di venire ascoltare tante interviste interessanti tanti speech interessanti di personalità di spicco nel nostro campo e ovviamente anche noi di ristoratore top io ti ringrazio per l'attenzione ci vediamo in aula e come sempre dai cazzo